una volta entrati nella piattaforma concorsi e procedure selettive come avete visto già dal tutorial dal primo tutorial entriamo nelle istanze aperte e vediamo come compilare la domanda del concorso per titoli ed esami abilitante all'insegnamento dell'educazione motore nella scuola primaria scendendo in questa finestra si consiglia attraverso questo link di pagare online i diritti di segreteria per la partecipazione alla procedura concorsuale e poi immediatamente dopo fare compila alla domanda è importantissimo leggere completamente tutta l'informativa riguardante il concorso ordinario per titoli ed esami abilitante finalizzata al reclutamento del personale docente per i ruoli relativi all'insegnamento di educazione motore nella scuola primaria perché altrimenti se non si legge tutte non si fa la presa di visione di questa informativa non si può procedere andando avanti dunque si consiglia un'attenta lettura di tutta questa parte per la compilazione della domanda fino ad arrivare in fondo leggendo tutte le avvertenze il trattamento dei dati personali e tutte le questioni le finalità del trattamento della base giuridica per poi fare alla fine della pagina in una banner di colore verde la presa di visione facendo la presa di visione si potrà andare poi avanti nella compilazione della domanda ecco facendo poi il tasto avanti si entra in una pagina dove si potrà scegliere la regione per cui fare la domanda vedete che ci sono le regioni diciamo in blu che sono quelle diciamo cliccabili che si può fare anche attraverso la mappa mentre quelle grigie non sono diciamo selezionabili andiamo per esempio a vedere di scegliere una delle regioni per esempio la lombardia cliccando la lombardia la lombardia diventa verde dunque la scelta della regione è stata fatta e si chiede di fare la conferma delle due scelte per cui la regione scelta e la lombardia ed è stata confermata per cui a questo punto si può fare tranquillamente da attraverso questo tasto andare avanti per inserire i propri dati inseriti i propri dati anagrafici nella pagina precedente si sta facendo ancora avanti proprio nella compilazione delle sezioni della domanda i campi obbligatori sono il primo classico concorso e titolo di accesso per cui si deve inserire proprio il titolo di accesso e poi ci sono delle aree facoltative i titoli di servizio per chi ha servizio svolto e delle aree successive come altri titoli valutabili o titoli di preferenza o titolo di riserva alla fine c'è un altro campo obbligatorio e quello delle altre dichiarazioni andiamo a vedere come si compila il la classe di concorso il titolo di accesso facendo su questa azione disponibile si entra in questa area dove si deve scegliere a questo menu a tendina proprio la classe di concorso per cui si partecipa che ha la sigla e e e m che sarebbe scienze motorie nella scuola primaria e facendo il tasto aggiungi si apre una sotto finestra in cui c'è la tipologia del titolo di accesso che è un titolo appunto di studio e poi ci dà appunto il tipo di titolo di studio che si ha per esempio una laurea magistrale vecchio ordinamento o nuovo ordinamento oppure una laurea di nuovo ordinamento specialistica si clicca nuovo ordinamento magistrale si va sul tipo di lm laurea magistrale possibile e per esempio si sceglie quella la m lm 68 per chi ha questo tipo di laurea si mette la votazione si dichiara potrebbe anche essere invece un titolo di nuovo ordinamento specialistica e dunque il titolo di studio può essere di questi tre tipi 53 barra s 75 barra s o 76 barra s nel nostro caso facciamo una laurea magistrale nuovo ordinamento lm 68 si inserisce la votazione di per esempio 104 su 110 e qui da la votazione poi in centesimi la converte si clicca su dichiaro che il titolo non è indicato il punteggio ma è questo dichiaro che nel titolo non è indicato il punteggio ovvero il giudizio non è qualificabile in termini numerici pertanto chiedo è questo solo se non è dichiarato il punteggio ma se ripetiamo che si inserisce qui semplicemente il punteggio in 110 e dunque lo dà e poi si dà la data di conseguimento per esempio 2021 luglio 21 luglio 2021 si la università in cui si è conseguita per esempio l'università della calabria e a questo punto si dichiara di avere i 24 cfu e si dice quando si sono conseguiti e si dice quando si sono conseguiti a febbraio 2021 presso l'ateneo sempre università si può tranquillamente fare salva avendo salvato il titolo di eccesso è stato inserito con successo queste caselle servono eventualmente per modificare questo titolo di accesso si ricorda che anche obbligatorio inserire le altre dichiarazioni e dunque dire parlare della cittadinanza essere cittadino italiano per esempio o ancora essere iscritto nelle liste elettorali del comune di facciamo o senza per esempio di avere l'idoneità fisica di essere fisicamente idoneo allo svolgimento di questo tipo di funzione di non avere condanne penali di non avere procedimenti penali in italia all'estero di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego di una di una pubblica amministrazione poi la h sono nel caso di avere una 104 ma molto probabilmente molti non lavorano qui dichiarare che il versamento che avete già versato da quel link precedente è stato effettuato e chiaramente si deve inserire il file del in pdf già dato dopo il versamento e infine di aver preso visione dell'informativa questo molto importante prendete la seriamente questa visione si può fare tranquillamente salva chiaramente non abbiamo inserito la ricevuta di pagamento e il sistema ci dice questa cosa ma voi andrete a farle e la inserirete e dunque tutto sarà diciamo a posto speriamo che questo video sia utile a tutti i nostri telespettatori chiaramente ci sono altre sezioni da compilare nel caso di servizi o di titoli che voi possediate per poter completare in modo perfetto la domanda grazie a tutti e arrivederci a tutti i nostri telespettatori